Quest'anno abbiamo collaborato con le Eurouniversità della Regione per costruire una iniziativa di testimonianza nella speranza che la diffusione di un modello educativo possa contribuire a creare consapevolezza nelle nuove generazioni. Allora abbiamo organizzato una staffetta nella quale ciascuno degli atenei della Regione, attraverso la voce di un suo rappresentante, lascia agli altri il testimone, partecipando alla lettura di un testo tratto dal libro del 2013 di Serena Dandini, Ferite a morte. Sono monologhi in cui si immagina che le donne, vittime di violenza, le donne assassinate dai propri uomini, possano parlare. Si tratta di mogli, sorelle, figlie, fidanzate, che non sono state ai patti, che sono uscite dalle regole assegnate loro dalla società. E se le donne sono vittime predestinate, gli uomini non vanno abbandonati a una cultura che li vuole dominatori autorizzati all'uso della violenza, perché la sopraffazione non può essere accettata come modello di relazione fra uomo e donna. Con questa iniziativa vogliamo fare nostro il messaggio di speranza di ferite a morte, infondendo coraggio a quante possono essere ancora salvate. Tra morire di sete e bere dall'acqua che si sa avvelenata, non c'è scelta, si berrà sempre. Emmanuel Carrère, Bravura Allora, questa è la chiave del cancello, questa del portoncino blindato, no, questa del garage. Aspetta, da capo. Questa è del portoncino. Se cambio la serratura, ha detto, che mi ammazza. Dice che è anche casa sua, solo perché ci ha abitato. Ma io ci stavo in affitto prima che lui arrivasse. Ma se cambio la serratura, ora mi ammazza. La cambio, non la cambio. E io non l'ho cambiata. Così è entrata di notte, tranquillo, con le sue chiavi e mi ha strangolata mentre dormivo. Il ragazzino non si è accorto di nulla. Ha continuato a dormire. Era bravo con il ragazzino. Lo portava ai campi sportivi a vedere le partitelle. È stato quello che mi ha ingannato. Se uno è buono con il ragazzino, è buono pure con me, pensavo. Mi sentivo tanto sola. La fabbrica, il ragazzino. Mi piaceva vedere un uomo dentro casa la mattina. Sono belli i maschi in bagno la mattina, quando si fanno la barba con quel buon profumo di pulito. Per essere pulito era pulito. Si cambiava due camicie tutti i giorni. Io non ero una grande stiratrice, lo so, ma lui era un po' fissato. È colpa delle madri, che abitano questi maschi come al gran hotel. E poi, quando escono nel mondo vero, non ci si trovano più. Se avessi avuto i soldi, ci andavo io al gran hotel, insieme al ragazzino. E lasciavo quella maledetta casa. Me l'avevano detto al centro antiviolenza. Cambia la serratura. Ma io avevo paura che mi ammazzava. L'aveva urlato ai 4 venti. Se cambia la serratura, l'ammazzo. E io non l'ho cambiata. E infatti, è entrato e mi ha ammazzato. Non c'è una logica. Chi ci capisce qualcosa è bravo. Allora, questa è della porta principale. No, del cancelletto. Entrava e usciva tutte le ore, come gli fareva. Accendeva la televisione a tutto volume, di notte. Mi svegliava il ragazzino. Svuotava il frigorifero. Si mangiava la spesa di due giorni. Era abituato a servirsi a piacimento. Poi veniva in camera da letto. E anche lì si serviva a piacimento. Solo del bagno non aveva le chiavi. Lì potevo chiudermi e piangere in santa pace. Eppure, dopo l'ultima discussione, sembrava quietato. Vedrai che ha capito, ho pensato. Non mi ha neanche detto se cambi la serratura t'ammazzo. Allora mi son detta, quasi quasi, domani la cambio. Ma mi ha ucciso prima. Io non lo volevo offendere. Volevo solo lasciarlo. O meglio, volevo che lui ci lasciasse in pace. A me e al ragazzino. Ma lui dalla madre non ci voleva tornare. Eppure la madre stirava meglio di me, me lo diceva sempre. Doversi imparare da mia madre. Non ho fatto in tempo. Scusate. Glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che ci avevano ragione. Io non le ho più trovate. Dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli. Ora, al posto loro c'è una banca. Ma il mutuo non me l'hanno dato. Peccato. Volevo tanto cambiare casa. Ora mi sono rimaste solo queste chiave. E non mi ricordo neanche cosa aprono. Questa è del cancello. E questa. La loro pietà è nell'essere spietati. La loro forza nella leggerezza. La loro speranza nel non avere speranza. Pierpaolo Pasolini. La religione del mio tempo. Gliel'aveva detto a tutti. A mia madre. A mia suocera. Ai carabinieri. Ai colleghi di lavoro. Quando ti dico tutti, è tutti. L'aveva detto anche agli amici del bar. E ai vicini di casa. Al postino. Agli imbianchini. Che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina. Lo sapevano proprio tutti. Anche quelli del distributore di benzina. Pure alla sala giochi lo sapevano tutti. E anche i clienti del salumaio. L'aveva detto pure a loro. Che mi avrebbe ammazzata. E infatti. Quando l'ha fatto. Non si è miravigliato nessuno. Già. Lo sapevano. Sui giornali hanno scritto. Un raptus improvviso di follia. Ma quando mai? Erano anni che lo diceva i 420. A me veramente mi è sembrata una morte annunciata. Io ci ho avuto l'annunciazione come la Madonna. Bella, chiara, risaputa. Una bella soddisfazione in un paese dove non si sa mai niente. La chiamano l'Italia dei misteri. Ma quelli veri che rimangono misteri per anni e anni. Ustica. La strage di Bologna. Qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno ci ha capito qualcosa? Buio. E invece, quando sono morta io, lo hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata mio marito. E certo. Gliel'aveva detto a tutti che lo faceva e l'ha fatto. Son soddisfazione. Una sola cosa non mi torna. Ma se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io, perché gliel'ho lasciato fare? Perché gliel'ho lasciato far? E io, perché gliel'ho lasciato fare? Grazie a tutti. Grazie a tutti.